oggi siamo in compagnia della dottoressa maria bruna santoni dermatologa con master in dermatologia estetica e laser chirurgia dermatologica che qui a barcellona per motivi di lavoro in questa splendida giornata di sole e iniziamo proprio da lui dal sole questo grande nemico della pelle soprattutto per le donne oltre 40 e diciamolo anche vicino ai 50 e le precauzioni più o meno le sappiamo ci dica dottoressa come poter intervenire su una pelle matura che però cerca luminosità e ovviamente di apparire con meno rughe certamente allora direi che dobbiamo incominciare a parlare di manutenzione ordinaria e anche straordinaria eh sì esatto quindi la manutenzione ordinaria è quella che tutte quante noi dobbiamo fare ogni giorno a casa riallacciandoci al sole creme con filtri solari sono indispensabili per noi sia in inverno che ovviamente in estate e altre cose che si possono utilizzare che si devono utilizzare sono sieri e creme che vanno applicate mattina e sera abitualmente sempre sotto al trucco il trucco è un buon protettore quindi lo consiglio vivamente per quanto riguarda invece la manutenzione straordinaria sono ci sono tanti trattamenti che sono un pochino più chiamiamoli shock d'urto che vengono fatti negli ambulatori ormai quasi da tutti quanti noi dermatologi se vogliamo elencarne qualcuno possiamo parlare dei peeling chimici della luce pulsata intensa vascolare delle dei vari tipi di laser ablativi e non dell'acido aluronico della biorevitalizzazione e ancora qualche altro come radiofrequenza ossigeno terapia sono tutti dei trattamenti che volgono a stimolare direttamente il derma che è la parte più profonda della nostra pelle che dove risiedono le cellule motore cioè le cellule che producono i fibroblasti che producono collagene elastina e che quindi danno alla pelle un aspetto più luminoso un aspetto più compatto un aspetto più curato e più giovane e più fresco per i nostri over 40 per noi che appunto siamo over 40 esatto volendo dare quindi un consiglio sceglietevi un dermatologo meglio una dermatologa certo di fiducia seguite i suoi consigli e alternate a una buona terapia domiciliare anche qualche applicazione soprattutto concentrata nel periodo invernale di questi trattamenti che a seconda del vostro tipo di pelle del grado di fotodanneggiamento di foto invecchiamento e anche di crono invecchiamento quindi un po in base all'età sono dei protocolli personalizzati e specifici che vi verranno consigliati un bacio a tutte e viva le cinquantenni esatto grazie mille dottoressa è stata chiarissima e la ringrazio per questo intervento di oggi per i prossimi perché la dottoressa santoni collaborerà con il blog siamo tutte blogger per quanto riguarda la bellezza e la salute della nostra pelle e quindi al prossimo post con un piacere grazie a voi